ciao a tutti amici sono Stefano Belotti del reparto Ottoni e oggi ho il grandissimo piacere di essere in compagnia di un mio carissimo amico insegnante di Basso Tuba presso il Conservatorio di Vicenza sto parlando naturalmente di Antonio Berluco che è qui con me che insieme a me presenteremo degli strumenti fantastici che sono arrivati da pochissimo dopo un lungo viaggio e sostanzialmente abbiamo avuto il piacere di divertirci a suonare tutti questi strumenti insieme io ho avuto il piacere di ascoltare Antonio suonare questi strumenti e devo ammettere che mi sono fatto una grande idea però non voglio assolutamente influenzare l'idea del maestro Antonio e quindi lascio la parola benvenuto da Cavali in Musica grazie mille io ringrazio tantissimo Stefano, Graziano ma soprattutto Pietro e Viviana perché hanno voluto credere in questo brand che inizialmente io ho proposto loro, ho visto un po' quello che c'è sul mercato internazionale americano, asiatico e ho chiesto loro insomma se potevano far arrivare qui in negozio questo brand ZO in modo da poterli avere qui e poterli provare e toccare con mano questi strumenti io sono rimasto molto incuriosito parlando con colleghi professionisti che sono nelle principali orchestre italiane sinfoniche e liriche di quello che era questo marchio e subito già sentendo le prime video, le prime recensioni, leggendo le prime recensioni c'è stata molta molta curiosità per questo tipo di strumenti allora questi strumenti sono di produzione cinese come ormai le ultime marche che sono uscite per quanto riguarda il mercato degli ottoni però sono state sviluppate tramite artisti di fama internazionale principalmente credo americani quindi diciamo che non è una completa produzione cinese per quanto riguarda la parte di produzione ma c'è questa idea che viene un po' dai professionisti, dai tubisti anche perché sappiamo bene come le forme nella produzione di uno strumento autotone siano fondamentali assolutamente ancora prima quasi della qualità costruttiva, del materiale del materiale si progetta molto la ergonomicità dello strumento ma anche la colonna d'aria il flusso che l'aria segue all'interno del percorso diciamo che fa all'interno dello strumento e nel basso tuba di strada ne fa ne fa tanta, ne fa tantissima ma è diciamo lo strumento autone dove si fa più strada ecco perché è quello più lungo e quindi questo è molto semplicemente si, ridotto proprio ai minimi termini a questa cosa qua e niente quindi siamo felicissimi di avere questa seconda, questa seconda arrivo qui in negozio da noi perché il primo è stato un po' un area test che è praticamente esaurito si subito, esatto, in pochissimo tempo abbiamo visto esaurirsi proprio perché insieme ad Antonio abbiamo potuto testare la qualità sia sonora sia meccanica ma soprattutto proprio degli strumenti in generale l'ottone, la manifattura, i particolari, come suono, come risponde all'interno io nella prima partita ho acquistato presso il negozio Cavalli è proprio la prima ZO che è arrivata qua in Italia la Thunderbird 6 quarti in DO, la York e l'ho comprata subito è praticamente quasi un anno che io ce l'ho di proprietà e mi trovo benissimo l'ho usata in orchestra ma non solo in orchestra in gruppi da camera quintetto d'ottoni in banda quindi è una tuba molto molto versatile e soprattutto è una tuba di qualità nonostante, diciamo, rispetto a parità di strumento rispetto ad altri marchi il costo è veramente, come si può dire è molto inferiore cioè lo strumento regala grandissime emozioni e soddisfazioni per chi lo suona io infatti ti ringrazio per questo proprio perché il negozio ha bisogno di queste collaborazioni perché anche per il nostro pubblico che oggi ci ascolta per capire qual è lo studio a monte che sta qui nel negozio cioè come facciamo a trovare gli strumenti qual è l'iter per portarli qui e prima di metterli, diciamo, effettivamente nel nostro catalogo vedete che il lavoro c'è di test, di controllo, qualità di consulenza per poter garantire la qualità a tutte le persone che poi vengono in negozio ad acquistare i nostri strumenti e infatti adesso siamo circondati da bassi tuba ma in questa fornitura da parte di Zoo Industrial non abbiamo solo bassi tuba ma abbiamo anche flicorni alti baritoni, tenori, corni tromboni anche strumenti che fanno parte di altre famiglie come la famiglia dei legni, dei fiati in generale quindi oggi concentriamoci sui bassi tuba ma che sono un po', se posso permettermi, il fiore all'occhiello dell'azienda sì, effettivamente siamo da un altissimo livello su questa manifattura sono strumenti artigianali, non dimentichiamelo almeno la parte alta degli strumenti, quelli più costosi sono artigianali, non sono fatti standard ma adesso piano piano ve li introdurremo esatto oggi vi presenteremo quindi due tipologie di bassi tuba diverse due macro categorie diciamo, tuba in do e tuba in si bemolle che sono largamente quelle più diffuse abbiamo anche una tuba in fa che a breve vi faremo vedere e sentire naturalmente perché in fondo al nostro video e nella descrizione troverete i capitoli per andare ad ascoltare strumento per strumento suonato dal grande Tonin e quindi praticamente andiamo a scoprire insieme tutta questa bellissima fornitura nuova di zoo industrial io cosa dici? partiamo dalla principessa dalla principessa prego no, allora questa diciamo è il motivo per cui sono qui gli strumenti zoo questo è lo strumento che ci ha fatto incuriosire maggiormente allora, questa è una tuba in do 6 quarti ispirata al modello York della Walter Nierschel e ha una concezione americana logicamente quattro pistoni frontali più il quinto cilindro che si trova dopo la generale vedete è di un'ampiezza bella grande il cilindro come si trova sulle tube York cannello di letto nel primo tasto e possiamo vedere un'altissima qualità nei dettagli se vedete queste cose qui vedete le saldature che ci sono poi ci sono queste rifiniture carine che hanno dei significati a livello cinese abbiamo dei pavoni sulla campana con il marchio e possiamo anche se volete vi faccio vedere anche i pistoni così potete avviare con i vostri occhi anche la qualità del pistone guardate proprio come è fatto vedete che è pazzesco ti faccio mettere alla luce sì sì scusate io non sono così pratico ecco vedete c'è la qualità nei materiali guardate proprio esteticamente incredibile le finiture sono pazzesche non c'è veramente margine di errore allora la risposta di questo strumento è incredibile ha una profondità di suono pazzesca ispirandosi appunto al modello Walter Nils hanno cercato di essere più filologici possibili e io ho confrontato con l'originale la cui si è ispirata e trovo minimissime differenze proprio minimissime e a livello proprio sonoro quasi niente e quindi io suggerirei a quelli che vorrebbero acquistare una tuba in do una York una tuba 6 quarti gli consiglierei di passare il primo possibile in negozio visto che è la prima partita durata un giorno di passare il primo possibile in negozio per provare questo strumento e dare una chance a chi vuole comprare una York perché giustamente come dicevi tu Antonio questi sono strumenti fatti a mano quindi anche la produzione è una produzione lenta no non è una produzione in serie quindi ci vuole tempo per assemblare e per fare tutto vedete non ci sono non ci sono sbalzi non ci sono ondulati le saldature sono fatte benissimo non ci sono come dire macchie incredibile c'è da dire che anche tu la usi professionalmente da un anno quindi si si non ho avuto nessun problema se vogliamo sei stato il nostro pioniere esatto sei andato in fondo a questa avventura si si ma guardate anche dietro hai dato una grande fiducia vedete anche dietro come è sviluppata con il quinto proprio uguale copiata identica la penna americana sì ecco per esempio io consiglio sempre su questi tube qua di usare sempre con la penna americana un bocchino diciamo che sta sul genere Shield Caliber 2 30H T1 della Warburton oppure che dire insomma quel genere di bocchino lì perché è un bocchino che si si sposa bene con questo tube un Mike Roylands per esempio oppure insomma queste cose che hanno diciamo partono tutte dallo Shield Caliber 2 ecco ecco un'altra cosa che è interessante che volevo farvi notare proprio per farvi vedere la qualità se voi vedete anche a livello di compressione ci abbassiamo un attimo se io premo la pompa sentite proprio la compressione cioè è anche una cosa molto bella proprio nella cura dei dettagli di questi strumenti e la qualità della macchina sentite sentite cioè è pazzesco nonostante che lo strumento sia nuovissimo l'hai suonato prima si l'ho suonato ma ho messo un goccio d'olio perché dopo averlo suonato sembrava giusto anche per chi lo provà ma è incredibile insomma proprio vedete le pompe si muovono fluide vedete guardate anche la qualità proprio dell'ottone del nickel l'alpaca cioè non c'è una macchia c'è proprio bellissimo anche se guardate dentro i tubi c'è proprio manifattura incredibile è veramente lo strumento ben fatto ecco benissimo questa tuba potete ascoltarla andando nella descrizione del video selezionando Thunderbird che è la nostra York 6 quarti in DO però non è solo non abbiamo una ne abbiamo due una coppia di York in negozio ce ne sono un paio che sicuramente spariranno a breve ma vabbè è una delle cose che anche notavamo prima io Antonio è proprio la qualità nel senso questi essendo strumenti fatti a mano uno dei fattori predominanti proprio per descrivere la qualità di un'azienda è proprio quella della qualità costruttiva della stabilità della qualità fra gli strumenti assolutamente tutti noi amici ottoni sappiamo che ci sono alti e bassi nelle produzioni in certi casi invece in questo caso questa è la quarta York che noi troviamo è la quarta tuba che suona uguale l'una all'altra non c'è praticamente differenza cioè sono veramente la stabilità della qualità io sono altre due queste di questa partita che sono arrivate sono identiche che uno prenda uno all'altra non cambia niente però in qualità ecco sì 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 altri grandi maghi hanno fatto la storia su questa cosa soprattutto gli strumenti manufatti è quello sempre al rischio perché quando tu hai strumenti manufatti uno viene bene l'altro un po' meno invece loro hanno anche dei trattamenti dopo la produzione manuale per renderli simili che appunto non c'è differenza nella produzione sono esattamente identici è proprio una garanzia di qualità altissima sì sì e nella collezione di questo giro abbiamo un'altra tuba in do di una dimensione un pochettino più piccola almeno sulla carta diciamo che è una tuba diversa è una 5 quarti quindi mi sposto allora diciamo che la concezione rimane sempre americana comunque è una tuba 5 quarti ha uno sviluppo leggermente più piccolo a livello proprio di fusti e di campana i canneggi sono leggermente più piccoli anche il rotore del quinto come potete vedere qua la dimensione è un po' più piccola forse ve lo faccio vedere dietro perché è girato qui è un po' più piccolino logicamente è una è una è una 5 quarti la meccanica anche qua è eccezionale ve la faccio sentire comunque per far sentire Stefano ecco sentite che è pazzesco compressione sempre delle pompe incredibile ecco ecco questa ha una ad esempio qua ha montato la reverse hai visto? non c'eravano neanche accorti prima sì c'è la reverse è molto intelligente come struttura sì io non so a che tuba si siano ispirati per questa perché non trovo dei paragoni con tube già esistenti però vi posso garantire che è stata una sorpresa per me che non conoscevo questo modello perché come potete immaginare essendo una ditta che ha nuove produzioni di anno in anno sforna nuovi prototipi nuove tube e quindi questa non appariva nemmeno sui cataloghi abbiamo scoperto è arrivata questa si chiama ZTU C7000 C7000 ed è una 4 pistoni frontali con il quinto il quinto è prima della generale a differenza della Thunderbird è qui e comunque anche qui le pompe hanno dei giri abbastanza larghe e non sono sacrificate anche questa è molto facile come più facile rispetto alla 6 quarti logicamente la 6 quarti esige una preparazione maggiore ecco non è così immediata e questa è un po' più immediata logicamente è un diverso colore di suono rispetto alla 6 quarti è un po' più diciamo un po' più diretto meno avvolgente però è molto intuitiva come strumento è molto facile e poi potete apprezzarlo anche nei video che ho fatto ho fatto lo stesso passato d'orchestra che trovate e lo stesso vocalizzo che trovate sulla 6 quarti così potete rendervi conto di come suona una diverso dall'altra poi essendo laccata questo modello ci permette di vedere cosa sta sotto la laccatura naturalmente qui abbiamo un'argentatura che copre i colori che quindi copre le percentuali di rame nella lega d'ottone in questo caso vedete come il corpo naturalmente è un 70% di rame all'incirca perché il yellow brass è di tradizione 70% rame ma guardate la lead pipe come è rossa gold brass io direi il red brass siamo oltre il 90% quasi al 100% da un suono un po' più scuro un po' più e questo serve anche per la corrosione perché è un materiale che non corrode e quindi tecnicamente è una tuba molto bella e studiata per durare molto tuba assolutamente di qualità e quindi noi qui abbiamo concluso come vi dicevo la categoria tuba in do america america style esatto america style potete ascoltarle thunderbird 6 quarti york e la ztu c7000 una 5 quarti in do molto interessante io proseguirei però tralasciando questa facciamo dopo anche alla fa abbiamo dedicato del tempo ma prima passiamo alle si bemogli perché nelle si bemogli abbiamo una grande incognita che era questa che assolutamente volevamo suonare volevamo vedere e toccare con mano ma poi ci siamo divertiti tantissimo con questa in realtà guardate la little panda la little panda incredibile questa è una tuba incredibile perché uno che vede una tuba di queste dimensioni magari può dire ma un giocattolino non vale niente in realtà io sono rimasto beh quella è molto bella anche quella perché comunque è una 4 quarti con i canneggi grandi e dà molta soddisfazione ma questa che pensavo anch'io fosse un giocattolino una cosa un po' in realtà ha dei canneggi abbastanza grandi non grandi come quelli ma abbastanza grandi se vedete anche per quanto riguarda le dimensioni posso farvelo vedere qui eccolo qua cioè potete vedere che non è non sono proprio canneggi piccoli e questa ha una qualità di suono fantastica che ci ha per la per la grandezza che ha questo strumento ha una qualità di suono incredibile io questo strumento qua lo consiglierei a tutti quelli che hanno l'indirizzo musicale medie anche elementari per chi è già o licei perché avere una tuba di queste dimensioni non ha un impatto così violento diciamo sul ragazzo ma dà soddisfazione perché la qualità del suono appaga tantissimo quindi anche se uno ha le prime armi e non ha una diciamo un impegno immediato come altre tube per essere suonato dà una grande soddisfazione a livello sonoro e poi è molto leggera sì no è bellissimo anche non so ragazzi giovani ragazze anche volevo farvi sentire la macchina sentite è silenziosissimo pazzesco senti che roba incredibile ecco questa è stata ancora di più una sorpresa nelle fanfare sì sì se devi tenerti una tuba in mano questa persona tantissima ha una risposta incredibile i nostri amici possono ascoltarsela possono ascoltarla perché Antonio ci ha dedicato del tempo questo strumento e lo trovate come little panda little panda little panda bellissima mi piace un sacco ok veniamo alle tube professionali allora questa è diciamo l'ispirazione come prima la thunderbird alla valternish questa è ispirata alla B&S GR51 anche qua vi faccio sentire la macchina così dato che ho preso in mano pazzesca e questa ha delle modifiche rispetto al canneggio sempre in red brass gold brass come volete chiamarlo ha diciamo i primi tre cilindri hanno copiato bene o male dall'inizio sono ispirati a quello iniziale il quarto invece l'hanno aperto un po' di più per dare maggiore facilità soprattutto nel registro grave e guardate questo giro sì esatto quello è il quarto si apre così eccolo e guardate le saldature guardate le rifiniture guardate veramente tutte queste cose qui ha i ganci per la tracolla guardate anche quando c'è il supporto inferiore questo per per dare un maggiore sostegno guardate guardate come è rifinito è incredibile veramente bella sì molto 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 bella e questa l'abbiamo suonata facendo anche dei passi d'orchestra impegnativi sì beh abbiamo anche fatto dei passi d'orchestra che non troverete non troverete a sezione non troverete io ho fatto un passo d'orchestra e sempre un vocalizzo anche con questa stuba così da esaltare un po' le caratteristiche della si bemolle questo è un discorso a prescindere dal 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 marchio ZO cioè voi quando scegliete una tuba cercate delle caratteristiche che si accompagnano un po' a quella che è la la progettazione dello strumento nel senso che quando voi cercate una tuba in do a pistoni vi porta verso una concezione di suono americana quando cercate una si bemolle a cilindri vi porta più su una concezione tedesca dello strumento e quindi ho cercato di valorizzare questi strumenti per quello che è il loro repertorio per quello che possono dare e il colore di suono che danno diverso rispetto a delle tube a pistoni ecco ma questo lo capirete anche nei video li abbiamo messi tutti insieme alla fine i video in modo che potete ascoltarli in fila e rendervi conto di quello che può offrire uno strumento per le caratteristiche che ha tanto questo è un ottimo argomento che potremmo sviluppare in futuro no? si volentieri tra cilindri e pistoni cosa cambia tra suono dopo io questa cosa qua sembra una cosa che magari possono dare per scontato però in tanti chiedono soprattutto quando si avvicinano ma non solo nelle bande anche studenti del conservatorio o di altre scuole chiedono sempre ma cosa devo comprare pistoni cilindro cioè in realtà questo va a gusto del cliente del tubista del musicista perché a seconda di quello che lo chiama l'orecchio di quello che è abituato a ascoltare di come gli piace il tipo di suono si può indirizzarlo verso uno strumento a pistone uno strumento a cilindri verso un tre quarti un quattro quarti un cinque quarti un sei quarti capito? sono concezioni diverse che sono fatte apposta non perché uno sia peggio dell'altra uno costa più dell'altra o meno dell'altra perché offrono delle gambe di suoni che possono accontentare tutti quanti quelli che sono attirati dal mondo della tuba e anche qua stavamo notando come tutte le curve sono molto tonde che è un po' è una tendenza moderna anche io lo noto nei tromboni tantissimo nelle curve delle ritorte negli anni 80 e 90 si tendeva ad appiattire ad fare le littiche adesso cercano di essere le più tonde possibili perché questo dà una grande facilità allo strumento è più fluida l'emissione dell'aria perché pensate un po' al tubo dell'acqua per l'irrigazione più è strozzato più l'acqua aumenta la pressione più il tubo è fluido più anche l'aria esce fluida esatto quindi questo aiuta a suonare all'emissione in maniera più facile giustamente si è più immediato certamente e poi anche questa qui ecco questa qua si questa non la troverete nel video di presentazione degli strumenti non l'abbiamo suonata semplicemente perché non c'era tempo perché non c'era tempo e perché c'era molto caldo c'era molto caldo esatto questa però ci siamo divertiti a suonarla tra noi abbiamo fatto qualche passo d'orchestra in sezione trombone basso e basso tuba ed è una tuba ispirata al più famoso quintetto d'ottoni si beh è una tuba diciamo che è in si bemolle però somiglia molto a quello che è la yamaka in do o la si bemolle in do della yamaka ecco perché con questi quattro pistoni frontali e anche il giro del secondo queste cose qua le chiamano molto quella tuba lì ha caratteristiche di suono diciamo se la vogliamo paragonare come dimensione alla little panda vedete che bene o male la campana e l'altezza dello strumento e lo sviluppo sono abbastanza identici ha una concezione diversa perché essendo a pistoni crea un suono diverso nonostante sia di esatto come dicevi prima è un pochettino più diretta un po' più diretta esatto ha meno alone ma un po' più diretta addirittura l'azienda questa le indica come una tre quarti come taglia sì ma probabilmente anche per i carnigi esatto proprio per le dimensioni la little panda invece no è come se fosse una a cavallo tra la tre e la quattro quarti sì perché i carnigi sono da quattro quarti lo sviluppo è un po' da tre quarti sì ecco molto bella ecco è leggerissima anche questa diciamo sì sì molto bella molto leggera sentite proprio la qualità ma anche su tube non diciamo semi professionali diciamo così però guardate anche qui cioè non c'è minimamente diciamo differenza da quelle grandi cioè logicamente i pistoni sono più larghi su una tuba a sei quarti perché i carnigi sono più grandi però guardate la rifinitura vedete la rifinitura vedete non ci sono sbavature non ci sono assemblamenti storti è tutto perfetto anche in queste guardate anche la camera cioè adesso con la luce non so però guardate non ci sono sbavature è incredibile questa cosa qua cioè hanno sono arrivati ad avere lo so che c'è molta diffidenza sull'acquistare strumenti cinesi perché purtroppo fino adesso abbiamo avuto produzioni europee o americane ma io ne sono accorto già da un po' di anni perché le ultime volte che ero andato alla music messa a Francoforte praticamente era monopolizzato da strumenti asiatici ma diciamo che un po' come sta andando adesso l'economia e il mondo se voi vedete le ultime brand che sono nati se si possono fare i nomi comunque Vesex Eastman adesso ZO vengono tutti dalla stessa area del mondo e quindi come dicevi anche tu a monte a differenza di una volta dove venivano prodotti un po' strumenti così in massa diciamo che venivano buttati sul mercato per essere il più economici possibili che davano grossi problemi a chi vendeva e soprattutto a chi comprava perché i pistoni non andavano mai i cilindri si bloccavano ecco quale cosa sono radicalmente cambiate perché ci sono artisti internazionali che aiutano e sviluppano questi strumenti in collaborazione con degli ottimi tecnici perché ragazzi non dimentichiamoci che questi strumenti vanno fatti da persone formate soprattutto le tube artigianali hanno attrezzi per poterle fare che sono uguali a quelli della produzione europea hanno ingegneri che sono europeo americani e quindi ormai è quello logicamente è inutile che ce la raccontiamo il costo della mano d'opera in Cina non è lo stesso costo della mano d'opera che c'è però vi posso garantire che poi potete venire anche voi qui da Stefano Graziano insomma e chiedete di provare gli strumenti lo sentirete voi con le vibrazioni che vi trasmettono lo strumento quando lo suonate questa è la sensazione che potete provare solo venendo qua e avrete proprio quello che vi stiamo cercando di dire fino adesso io e Stefano sì sì è proprio la sensazione il feeling che tu puoi avere con uno strumento sì sì è proprio quella diciamo che siamo partiti dal livello top e siamo arrivati al livello base ecco insomma però anche a livello base sì sì sono tube ottime tre pistoni con una forma tradizionalissima molto leggera con madre perla anche sopra con madre perla molto leggera e vi assicuro che chi suona per esempio sfilando marciando addirittura qua è visto Antonio come puoi vedere puoi sostituire la lead pipe abbiamo fatto un piccolo taglio nel video semplicemente perché ci stavamo dimenticando uno dei particolari principali di questa bassotuba cioè della ZTU2000 il fatto Tonin che dici che la lead pipe che vi dicevamo essere staccata dal corpo serve per trasformare lo strumento in un bellissimo in un bellissimo strumento da marching band da suonare in questa maniera qua ok quindi è una tuba che diventa frontale bellissima la lead pipe di trasformazione viene inclusa all'interno del basso tuba esatto quindi ci abbiamo messo due minuti anche meno anche meno senza sapere come funziona ha un doppio sostegno quindi rende esattamente super solido la lead pipe e ci possiamo divertire suonando il tubo frontale quindi abbiamo una tuba che ha una doppia funzione una tuba due tubi in una esatto è fantastico proseguiamo che non è solo per marcimento esatto ce ne mangia solo una una è una delle più importanti però del catalogo e questa è tuba in fa anche qui troviamo un bel pavone che arriva fino ai bordi della campana incredibile hanno queste lavorazioni bellissime sempre anche i cilindri qua meccanica come potete sentire uguale a quelle altre super silenziosa se vedete qui i cilindri vedete meccanica super silenziosa sempre 4 cilindri più 1 4 più 1 si si è il pollice questa diciamo che si è ispirata al B&S 3099 e anche questa la trovate come vedete sempre il giro del terzo è quarto qui quinto in entrata sulla sull'head pipe e poi scende giù e quarto e quinto molto interessante molto interessante molto pronta come potete sapere o chi magari non lo sa sulla tuba in fa un po' per il taglio dello strumento spesse volte ci si trova un po' in difficoltà nelle note gravi per centrare i suoni e invece questa tuba qui l'ho trovata molto pronta è abbastanza dritta per arrivare nelle note gravi non dovete piegare troppo per ottenere dei suoni centrati quindi la consiglierei veramente a tutti perché è uno strumento che non mette in difficoltà anzi aiuta pur essendo una tonalità un po' più cruda come quella della tuba in fa rispetto alla do e la simbomolle che praticamente è completamente intonata insomma la do qualcosina si muove sempre ma la fa è quella un po' più problematica dal punto di vista di intonazione questa invece ha una una facilità anche nelle note gravi comunque la sentirete anche questa nei video e avrete modo di poter ascoltare anche questo strumento esatto cosa dici Stefano io direi che abbiamo visto tutte abbiamo fatto una bella carrellata molto bella ti ringrazio tantissimo e se i nostri amici e amiche avessero dei dubbi delle domande scriveteci lì nei commenti perché saremo felici di rispondervi di darvi una mano seguite naturalmente sui social Antonio Bellucco conosciuto come Tonin come Tonin e ti ringrazio tantissimo per questa bella giornata grazie a voi grazie Tonin ciao grazie amici grazie per Angelo dietro la camera come sempre grazie Pier e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.